Antonio Conte resta all'Inter e con lui da quello che filtra al momento anche la dirigenza al completo perché non ci risultano in questo preciso istante poi vedremo cosa succederà nelle prossime ore dei ribaltoni per quanto riguarda anche lo staff dirigenziale dai sondaggi che abbiamo lanciato sui canali social di Passione Inter nelle ore immediatamente successive all'annuncio ufficiale da parte dell'Inter della conferma di Antonio Conte vedo che gran parte della tifoseria è d'accordo e contenta anche di questa scelta che però inevitabilmente credo si porta dietro qualche dubbio alcune perplessità diciamo qualche punto interrogativo soprattutto in tanti ho visto che ci hanno chiesto e mi hanno chiesto anche all'interno del gruppo Telegram di Passione Inter tutto questo rumore per poi restare come eravamo? Cos'è cambiato dallo sfogo post Atalanta Inter più quello post Siviglia al comunicato dell'Inter che ve lo leggo testualmente recita l'incontro di oggi tra il club e Antonio Conte è stato costruttivo nel segno della continuità e della condivisione della strategia con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto il comunicato ovviamente subito dopo l'incontro in molti hanno detto un po' stringato io credo sia normale che sia stato un comunicato così stringato abbiamo cercato di sintetizzare le motivazioni che sono emerse che hanno portato a quello che noi abbiamo definito il compromesso dopo questo lungo faccia a faccia ne sono nello specifico nove e ve l'elenco a partire da ciò che ha ottenuto Conte diciamo così partiamo lato Conte il primo motivo alla base di questo diciamo compromesso è innanzitutto la chiarezza perché il presidente Zhang soprattutto è arrivato a questo incontro con l'obiettivo di chiarire tutto, di fare da mediatore e ha messo sul tavolo tutta la strategia tutta la situazione economica e progettuale dell'Inter nella maniera più trasparente e chiara possibile per me chiara è la parola fondamentale in questo senso e questo l'allenatore lo ha gradito moltissimo secondo motivo e questa cosa ci collega il primo motivo si collega a questo secondo motivo perché con altrettanta chiarezza da quello che è emerso anche dai giornali avrebbe chiesto di prepararsi Conte ad affrontare una grande stagione ma Conte appunto non vuole sentir parlare pubblicamente di scudetto, obiettivo scudetto prioritario per questa stagione di vittorie perché Conte pensa che per potersi candidare fin da subito per traguardi così ambiziosi serva qualcosa che evidentemente non gli è stato garantito in questo momento soprattutto credo dal punto di vista del mercato questa è una versione rilanciata da molti giornali e da tv di questa garanzia che ha chiesto l'allenatore che a me personalmente ve lo dico mia opinione lascia qualche perplessità perché di fatto l'Inter ragazzi quest'anno è arrivata a seconda vero che il punto soltanto di distanza dalla Juventus forse non è molto realistico è arrivata in finale d'Europa League la Juve parte avanti come è normale che sia per tutto quello che ha fatto in questi anni ma sta cambiando molto e questo non lo possiamo negare quindi se non si candida l'Inter a provare almeno a togliere il trono alla Juventus la vedo dura per chiunque altro comunque l'Inter deve esserci secondo me in quella linea lì diciamo quindi che si possa essere arrivati ad un compromesso su un low profile mascherato diciamo così forse può essere di sicuro credo dovrebbe cambiare qualcosa più che altro dal punto di vista comunicativo e forse con una dirigenza e quindi con un Marotta che sarà ancora più presente quindi questo è il secondo motivo e il secondo tra virgolette la seconda vittoria di Conte in questo faccia a faccia il terzo motivo alla base di questo accordo lato Conte credo abbia avuto un grosso effetto tanti punti hanno spinto in questa direzione appunto anche il pressing da parte della squadra dello staff si è parlato anche di magazzinieri e in particolar modo di Oriali team manager dell'Inter oltre ad una gran parte del popolo interista che hanno di fatto sommerso d'affetto e di messaggio Antonio Conte che sicuramente si è sentito supportato dal mondo nero azzurro e quindi questo ovviamente ha inciso quarto motivo quarta considerazione che poi abbiamo fatto anche all'interno del gruppo Telegram di Passione Inter Conte probabilmente ha anche capito che con un altro dio così turbolento mi permetto di dire soprattutto in questo momento così particolare a livello mondiale a livello anche calcistico soprattutto rischia davvero di mettere a rischio scusate la ripetizione la sua carriera nonostante i grandi risultati ottenuti in campo quinto motivo e questo si sovrappone ed è un po' a metà strada tra le motivazioni di Conte e le motivazioni della società perché riguarda la crescita tecnica della squadra evidente in questo anno c'è stata e per entrambi credo sarebbe stato un peccato interromperla così bruscamente dopo un solo anno sesto motivo interromperlo inoltre questo percorso di crescita avrebbe anche portato a dover puntare su un nuovo allenatore molto probabilmente quasi sicuramente Massimiliano Allegri che si avrebbe dato una certa continuità conoscendo il campionato italiano conoscendo le dinamiche di un grande club conoscendo anche cosa bisogna aspettarsi arrivando dopo Conte ma avrebbe comunque significato ripartire non dico da zero ma da uno comunque quasi da zero con un nuovo allenatore quindi anche per la società un aspetto negativo non da poco in una stagione che lo ricordiamo avrà di distanza tra l'ultima gara della 19-20 e la prima della 20-21 soltanto una manciata di giorni settimo motivo la società riguarda appunto lato societario lato quindi più zang diciamo così che quindi avrà ottenuto sicuramente da parte sua anche delle rassicurazioni da parte del mister sulla gestione delle vicende interne all'esterno ovvero soprattutto niente più sfoghi in pubblico come quelli a cui abbiamo assistito troppo spesso in questa stagione arriviamo agli ultimi due motivi che hanno portato al compromesso all'accordo da quello che è emerso da quello che abbiamo potuto anche carpire noi l'ultimo è il più importante il penultimo è la chiarezza progettuale di cui parlavamo all'inizio ha portato ad un accordo ovviamente anche sul mercato che è stato al centro più volte di dibattito in stagione da quello che emerge ci aspettiamo investimenti mirati con un mix di giovani ed esperti ma passando purtroppo credo anche da qualche sacrificio se si vorrà fare un colpo top ma di questo ne parliamo in un altro video infine il nono motivo forse quello più importante è inutile nascondersi c'è anche una forte motivazione economica secondo me alla base di questo matrimonio che va avanti e che prosegue che ha spinto entrambe le parti quindi a ricongiungersi a stringersi la mano ad andare avanti insieme due anni di contratto residui per il mister 47 milioni di euro lordi più o meno sono tanti soldi a cui il tecnico avrebbe dovuto rinunciare e che l'Inter o che l'Inter comunque avrebbe dovuto pagare almeno in parte aggiungendo poi anche l'esborso per un altro allenatore quindi è una motivazione quella economica che ovviamente non possiamo lasciare in secondo piano sicuramente per tutta questa serie di motivi quindi l'Inter e Conte vanno avanti insieme fatemi sapere se siete d'accordo che cosa ne pensate di questa scelta se vi ho convinto se manca qualcosa secondo voi in questa ricostruzione scrivetelo nei commenti e soprattutto cliccate sul pulsante iscriviti al canale YouTube e al canale Twitch tutti i giorni siamo in diretta alle ore 19 con nuovi contenuti nuovi approfondimenti che trovate poi anche in formato podcast su Spreaker Spotify Apple Podcast e Google Podcast grazie a tutti grazie a tutti